Da ieri sono scattati gli aumenti delle bollette di luce e gas, non sono però i soli rincari da autunno e peseranno di più sulle famiglie delle zone del sisma che stanno ricevendo ora le fatture di conguaglio dopo la sospensione delle bollette. Simona Carbonari. Temuti ma ampiamente annunciati, arrivano con l'autunno i rincari alle bollette dell'elettricità e del gas. Pagheremo di più nonostante l'intervento del governo. I prezzi delle materie prime volano verso i massimi storici. Il trimestre ottobre-dicembre 2021 sarà dunque caratterizzato da una raffica di aumenti, in particolare per luce e gas. Rincari ci stanno sempre. Certo non fa piacere, questo è logico, nessuno fa piacere pagare un aumento. Ma in termini concreti di effetti reali sentiamo quanto questi rialzi vanno ad incidere sulle tasche dei consumatori. In particolare ci sarà una variazione in aumento rispetto al 2020 di circa il 30% corrispondente all'incirca a un aumento di 145 euro su base annua per quanto riguarda l'energia elettrica. Mentre per quanto riguarda la bolletta del gas la variazione in aumento del 2021 rispetto al 2020 sarà di circa il 15% e quindi corrispondente a un importo che si aggira intorno a 155 euro. In totale dunque l'aumento per una famiglia tipo è di circa 300 euro l'anno. Impatti importanti ma la situazione è ancora più difficile nelle aree colpite dal terremoto del 2016. Molti utenti infatti hanno avuto la sospensione di luce, gas e acqua e stanno ricevendo ora le fatture di conguaglio. Bollette che vediamo anche superiore a 5.000 euro? Proprio in questi mesi alcuni gestori hanno iniziato a sbloccare la fatturazione e quindi gli utenti. Si troveranno a pagare gli arretrati rateizzati e le bollette attuali comprensive degli importanti rincari di cui abbiamo parlato. Sarà una cosa molto difficile da pagarsi perché gli stipendi sono quelli, le pensioni sono quelle, quindi come faremo non lo so.